Pesaro sale sul gradino più alto del podio alle finali dei campionati mondiali di pizza senza frontiere tenuti sia Rimini. Un risultato che gratifica il ristorante La Macelleria Cucine Pizza di Via delle Gallegherie con i suoi due pizzaioli Edoardo Barone e Gianfranco Tinto che centrano il bersaglio grosso nella categoria pizza napoletana tradizionale. Siamo assolutamente contenti di questo risultato, ovviamente inaspettato, visti su un meglio oltre 600 partecipanti da tutto il mondo. I ragazzi hanno fatto lavoro straordinario, non ieri ma in questi quasi 4 anni, creando un impasto che oggi possiamo dire è assolutamente al top mondiale. Barone e Tinto hanno saputo trovare ricette vincenti in mezzo ad una guerrita concorrenza. La cosa più strana è stato quello che avendo partecipato come azienda ma singolarmente i due pizzaioli sono arrivati allo stesso punteggio. Questa cosa ci fa pensare che davvero effettivamente gli assaggi vengono fatti con professionalità e quindi hanno riconosciuto, nonostante l'esibizione sia stata a distanza di tre ore una dall'altra, hanno riconosciuto lo stesso impasto. Abbiamo proposto due pizze classiche, la bufalina e la nuova Napoli, vero Napoli rivisitata con prodotti a chilometro zero e prodotti campani. E quindi questo ha premiato i miei due collaboratori. Insomma, nell'anno di Capitale della Cultura, Pesaro finisce sotto i riflettori anche per la buona tavola. Sicuramente è importante per Pesaro, per la Capitale della Cultura, avere anche una ristorazione al top, perché sappiamo che i turisti, oltre ad avere bisogno di strutture recettive importanti, di un'ottima accoglienza del mare, della splendida piazza del popolo che è stata ultimamente riqualificata, chiaramente vanno anche a mangiare in ristoranti, quindi è importante avere dei punti di riferimento anche a livello culinario.